Un ambiente teso come una corda di violino e una domenica da dimenticare in casa a San Benedettese, in pieno tumulto per gli scossoni societari che sembrano lontani da risolversi. Anzi, ci si chiede adesso con paura cosa succederà da domani in avanti. La mattinata inizia alle ore 12, quando circa 200 tifosi si danno appuntamento all'esterno del Riviera per parlare con la squadra, il tutto a poche ore dal derby contro il Porto d'Ascoli. L'imperativo è non giocare. Dopo mezz'ora esce un rappresentante del club, si prova un confronto squadra-tifosi separati dal cancello, ma le autorità competenti dicono che non si può fare. Passa il tempo e intorno alle 13.30 gli stessi supporters si dirigono dalla zona fuori dalla tribuna centrale, praticamente in un terreno di mezzo. Lì iniziano cori ed insulti verso i giocatori, Cardella e Giulli su tutti, poi anche Manoni e Renzi. Il più duro è stato Questa volta vi ammazziamo. Stadio chiuso, ma i biglietti in vendita. Il derby alla fine si gioca. In campo gran parte dei Rosso-Blu, ma non Lulli e Torromino, rientrati allo stadio in auto dopo una breve uscita. Praticamente all'ingresso in campo delle squadre, poi la sorpresa. Il presidente Renzi appare in tribuna centrale. Nessuna dichiarazione, anche se si è poi fatto sfuggire frasi come «è colpa mia, non capisco perché se la prendono con i giocatori» o anche «risolveremo le cose». La notizia si sparge a macchia d'olio e gli insulti arrivano dalla tribuna semi vuota e anche dalla curva nord. Lo stesso Renzi lascia lo stadio a fine primo tempo, scortato dalle forze dell'ordine. In campo succede davvero poco. La gara termina 0-0 e dalla Samb solo silenzio stampa. Nei corridoi del Riviera anche quattro esponenti della Procura federale, che hanno seguito passo passo l'allucinante pomeriggio in terra marchigiana.